Tutto è pronto per la processione del Venerdì Santo che si rinnoverà alle ore 20 del prossimo 30 marzo. Si tratta della 63esima edizione della processione del Cristo morto e quest'anno per la prima volta la scorta d'onore sarà effettuata dal personale della Prefettura dell'Aquila. Organizzato dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo che dal 2000 per quest'evento supportano i frati di San Bernardino, il corteo del Venerdì Santo è particolare e unico nel suo genere perché caratterizzato soltanto da simulacri di arte moderna che sfilano lungo le vie del centro. La maggior parte di questi simboli furono realizzati nel 1954 da Remo Brindisi di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Alle 20 dunque il rito della processione che si rinnoverà e si assisterà anche ad una mostra particolare dell'artista di Remo Brindisi dato che i simulacri sfileranno lungo le vie del centro nel silenzio più assoluto, interrotto soltanto dalle note del miserere di Selecchi, cantato dal coro del Venerdì Santo e musicato negli ultimi anni dagli archi del conservatorio aquilano Casella e dai violini della scuola media Dante Alighieri. Il rito del Venerdì Santo nel capoluogo abruzzese affonda le sue radici nella fondazione della città, anzi la diocesi era ancora nell'antica città di Forcona, nei pressi della limitrofo di Erna Civita di Bagno, quando il sodalizio della compagnia del Santo Sepolcro dei Neri portò nei territori aquilani il culto del Cristo morto. Il grande organo, l'incenziare con concherrame sbalzato, i simboli del tradimento, della condanna, della derisione, i gruppi figurativi del dolore, degli apostoli della via Crucis, il gruppo allegorico della passione, l'angelo con calice, lo standardo dei quattro evangelisti, il Cristo morto, la Vergine addolorata, l'incenziare in ferro battuto e il simbolo del Calvario, sorrette da confraternite e associazioni, uscirono per la prima volta dalla Basilica di San Bernardino la sera del 16 aprile del 1954 alle 20, in concomitanza dei 99 rintocchi che la torre civica di Piazza Palazzo scandiva fino al terremoto ogni sera, per farvi ritorno poco dopo al termine del passaggio in corteo tra le maggiori vie del centro storico, per l'occasione buia stiepate di folla, soltanto nel 2009, in occasione del terremoto, non uscirono.